Vi ricordate lo scorso episodio in cui vi ho detto che a 6.000 pollicioni all'insù Joseph avrebbe registrato l'intero Best of Z con gli occhialini? Ebbene direi che ci siamo ragazzi miei bentornati in un Best of Z Con Joseph in modalità acquatica Gli hai già messi gli occhialini? Non ancora, li devo mettere, li indosso ora Vabbè indossali, indossali Joseph in modalità acquatica, cos'è un potenziamento? Joseph in modalità acquatica e ovviamente Blaziken68 Ciao raga, ciao Grande, grande Se c'entrano con le cuffie Noi abbiamo già pagato Blazzi, noi abbiamo già sofferto Cosa? Mamma mia, che brutto, sembra un alieno Sembra un alieno Sembra un alieno Mi sono spaccati gli occhialini No Così sono spaccato, ecco la scusa Si ha trovato la scusa, non ci credo Dai, si sono spaccati in live Non ci credo Non ci credo Un attimo che l'esistevo Sper qua, Dai, si sono rotti sul serio Ed eccomi qua Chi sei? Si sto un attimo che metto anche le cuffie ragazzi Che dolore, fanno malissimo sti occhialini Hai riparato quello che hai appena rotto? Si, si sono rotto Vi sento Che cosa mi state facendo fare Che cosa mi state facendo fare Che vuol dire poi quel Vi sento Domanda, vi sento Cioè, vi sento Hai messo gli occhialini Al massimo non vi vedo Non è che hai messo i tappi Che fanno malissimo Perché sono strettissimi Ma chissà se riuscirò a vedere il personaggio da scegliere Da scegliere Vediamo, non ci vedo molto bene Da scegliere No, da scegliere Di cosa Da scegliere La scelta dei personaggi No, l'hai detto No, 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 no Allora, io vado sempre col casuale Bamba Vado Eh, vado pure io Eh Mamma mia, che schifo Eh, raga Pure a me è andata malissimo Super Numero 17 L'Androide Supremo E io ho uno splendido Goku Super Saiyan Brew Eh, allora perché hai detto Che c'era andato male a tutti Eh, perché io vi ho preso in giro Ma Scusate Ma per quale motivo questo Goku Super Saiyan Blue Non ha la carica massima? Ma sul serio? Eh Forse era l'altra versione che ce l'aveva È un È un Fake È un Fake È un personaggio Fakez Sì Va, più o meno È tutta una menzogna Il Super Saiyan Brew Esatto Allora, a me vi dico la verità Nonostante Mi sia capitata Videl Comunque non mi dispiace Mi dispiace Ma guarda che Videl mena come un fabbro Che ti dispiace Mena come un fabbro Ma che scherzi Sì, sì, no Io sto cercando di eliminare Recomo Ma è duro Oh, tra l'altro Giuseppe E uno è andato Bene, avanti il prossimo Sì, a me parte Non posso combattere con Guldo Mamma, c'è Guarda Effettivamente Occhialini più Guldo Ma secondo me Secondo me Guldo Ma sono tutti appannati sti occhialini Anche se non c'è l'acqua Ma guarda Guldo ti assomiglia di brutto Ora che hai gli occhialini Super Camia Mia No È mio Deve essere mio No, l'hai preso No, è venuto contro La mia Camia Mia Guarda Giuseppe Guarda Giuseppe Come arriva col suo guldo Ma è un tarducco È mio Paralisi No, no Che paralisi Che gli stai mandando L'ho paralizzato Eliminato Oddio, allora Io gli ho dato dei calcioni Se ne è crepato sotto dei miei calci Però Oh, Giniu Ma non è perché mi devi rompere le scatole Perché sono Goku e vuoi il mio corpo Vattene Mannaggia Vai, combinazione Posa di combattimento di guldo Vai così Mamma, illegale La combinazione Illegale Eh sì È fortissima Boom Super Cameo Eh no Eh no Stavo combattendo Io contro Giniu Eh ma allora tu sei infame Eh ma tu sei infame Eh no Certo che è un infamone Attenzione Che ho fatto partire la combinazione Mi sa che l'hai fatto tu eh Oh Un altro episodio In cui vince Blazzi E ti giuro Ti giuro che annullo questo Best of Z Lo annullo Ma no Ma per chi? Cosa? No 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 Lo annullo Sì 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 no Lo annullo No dai Non può essere o Non può vincere Per personaggi scadenti Finché lui si sceglie personaggi forti Questo è quello che succede Ah sì c'è mi sono scelto Mi sarei scelto Videl Personaggio fortissimo Mi fa piacere Vabbè è vero dai Che poi veramente Non ditelo in giro Ma la sua è tutta una tattica Prima si scelta Debole poi dopo quello forte No no Fai aspetti Capitavo questa Videl O Pan Con combinazione Eh però Con Pan c'hai vinto Ma a fini che vinci pure con Videl Cioè quando Cominciamo a sperare davvero Che ti capitano Personaggi forti eh Eliminato io In effetti Sì Non l'ho tenuto Allora Lo avevo dimenticato Manca solo sel Guardate che io sono quasi vicino Oddio Lo sapevo che voleva me Lo sapevo E io godo che t'ha preso Eh grazie Super cameo Sì Dai Grazie per avermelo tirato dentro al raggio Ragazzi grazie Ragazzi non avete idea Di quanto facciano male questi occhialini Sono strettesimi Guarda Facciamo così Come abbiamo fatto sia io Che tu Beranza Alla conclusione suprema Se ci arriviamo Ok Li togli no Li puoi rimuovere Perché ragazzi Fanno malissimo Sono troppo stretti Oddio Il problema È che Non li posso regolare Perché sono rotti Allora Giuseppe Allora io ti dico Se ti azzardi Minimamente Se a rianimare Blazzi Sei sconificato dal best of z Dai che siamo messi male bro Eh Guarda Devo rianimarlo bro Io non so Lo rianimo che dici Vabbè Vabbè dai 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 Va bene Parole Eh ma se ci riesco bro Io sono messo molto male qui eh Perché ho guldo E sto schieno Vai Joseph Dimmi a salvare Sono sempre venuto io Sono sempre stato per te Non è vero Ma cosa Non è vero Non è vero Ma guarda che menzogne Ma questo sembra Il gatto e la volpe Cioè vedete il gatto e la volpe Quando ti facevano i messaggi Per Per far seminare i soldi a Pinocchio Uguale E infatti Raccogli le menzogne Ma ci sono sempre stato Raccogliere Racconta Guarda intanto come le busca Guarda E un altro è andato E un altro è andato La vita mi si affanna Sto muore Guarda per salvarmi Come le sta buscando Mi stanno Picchiando tutte qui Non vedo nulla Sto morendo Vai Videl Vai Ragazzi si stanno appannando Gli occhialini Guarda quello come ride Che ride Paralisi Io vi passerei La mia ripresa Dove si vede Guldo che cerca di recuperarmi Le leggi Ma allo stesso tempo Ne prende di mazzate Perché muoio Aia Vai Managgia Manca poco Sì Sì Uler Basta ti ammazzo la sorella Mi hai rotto proprio A chi Vabbè Dai Io ho usato una capsula Super camera Anche io ne ho usata una Eh Mannaggia Cioè Gli abbiamo tolto la camera Me a tube Sì Me l'avete stradolta L'abbiamo fatto bene E vi ho graziato Perché ho quella Teletrasporto Non la sto facendo Allora Vai vai Guarda che Guarda che è meglio Per te che non la fai Quella Va a segno una volta Su dieci Fidati Sì Mamma mia Oh dove va questo Scappa pure Ha preso due sberle E se ne va Eh sì Vabbè E ora Vabbè andiamo di là Di andare Verso sud Giuseppe Eccolo qui Guarda Mirko Come eri Non ridere di me Ma perché io Me l'aspettavo Mi aspettavo Che gli occhialini Ti si sarebbero appannati No Super camera Me a Boom E E E Vabbè Quarattro Ce l'hai mangiata Quaranta colpi Tutta Tutta se l'hai mangiata Sta super camera Me a E ora Quaranta colpi E ora L'androide supremo No No Malvagio Ah Diventa cattivo Super villain Eh sì Bene bene Vediamo Scusate una cosa Nel frattempo che noi Picchiamo questo Io volevo un attimo Parlare Di Dragon Ball Heroes Visto che Al momento È uscito il primo episodio E per come la vedo io Goku Super Saiyan 4 Come ho letto anche Qualche bignetta Sarebbe Goku Che non è mai diventato Ritardato Riassunto Super Come Come ho Più o meno E ancora Ma no Dai Che poi in realtà C'è da dire che È tutta una storia Che tra l'altro Blazzi ha pure spiegato E riassunto nei suoi video Sì sì Per tutti i dettagli Ragazzol c'è Blazzi Sì no ma Io Però di base Sì No no di base No di base Bah tra virgolette Possiamo metterla anche così Perché lui è molto più serio Dove sei andato Dobbiamo andare al cielo? No 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 Dall'altra parte Dall'altra parte raga Non è il cielo Non è al cielo È in montagne Ok Eccomi No sono andato al cielo No è imbagliato Non devi andare al cielo Oddio aspetta Oddio ma io sono andato al cielo Ma Joseph Non l'ho fatto apposta Non ci credo Ma fa che u Non ci credo Cioè perché io sono al cielo Però me lo sono ritrovato qui Mentre lui ti diceva No devi andare al mondo Non ci credo Ma io sono arrivato dopo di voi Guarda Blazzi Non di menzogna Cavolo Eh Ma che stai a dimor Io ti sto Una volta che sto cercando Di difenderti Una volta che sto dalla tua parte Non sto capendo nulla E me ne sono reso conto Che non si è capito nulla Cioè mentre lui ti diceva Tu hai detto che ho mentito Sbaglio Non ti difendere Ma mentre lui ti diceva No non devi andare al cielo Lui stava al cielo E stava combattendo Ah ma io pensavo Un po' sei stato tu No ma che Blazzi si vuole solo Far perdonare Da tutte le schifezze Che ha fatto Negli ultimi episodi Andiamo Guarda se l'è preso pure Questo è il mio episodio No no questo è il mio episodio Non ci credo Ma che cazzo Ma perché ti rialzi Ma stai a terra Maledetto Abufu E scappa ancora Ragazzi dovete Dovete andare in Dove eravate prima Capsule Non dire menzogne Capsule corpo Capo aperto Ragazzi vi giuro In questo episodio Io rischio l'infarto Perché Cioè mi sto Davvero collassando Vai 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 Oh abbiamo un alleato Abbiamo un alleato Che bello Bello Bellissimo Goku GT Vai vai Io ho tolto la stamina Vai Stuggiamolo questo Allora Blazzi Ascolta qua una domanda Gianemba Gianemba Così Fa parte Del film di Dragon Ball Z O di Dragon Ball GT Come di Z Assolutamente di Z Di Z Sì perché Eh però c'è C'era Gogeta Super Saiyan 4 No c'era Super Saiyan Super Saiyan Ragazzi Lasciate perde Qua piglio Z Comunque perché Togli Joseph Togli Posso Oh Mamma mia ragazzi Mamma mia Mamma mia Vai Ma che cavolo ho fatto Oh ma cos'è Ma non è finita No non è finita Però ha iniziato a combattere Poi è partito di nuovo Ma comunque Thor Ma che fa questo È in quarto livello Sta seguendo la storia E applaudo Sì sì applaudo Comunque No io perché ero convinto Che Gianemba Fosse di Dragon Ball GT Capito? No 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 Dell'universo Z Ecco Ah ok Bene Allora sono io che ho detto Una cavolata Non mi ricordo dove Mi sembra Nell'Iroclosium Che poi non è manco Canonico Devi dire Come personale Cioè? Sì no però fa parte Eh non Cioè non rientra Nella storia Aspettate un attimo Fermatemi sto qui Che Sì 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 Non ti ferma Colviscilo Colviscilo Niente non l'ho beccato No Di nuovo Super Camelamea Dai Evacue Il paese Non essere mio Eh l'ha tolto Joseph Chi l'ha tolto? Eh non lo so ragazzi So solo che io ho eliminato Un sacco di gente Ma non ci credo Raga Non ci credo C Grado Io ho preso B Pure io C Ho vinto Mirko Ragazzi ma come si fa Vincere con la B Io ho preso C Ma io Ma io li ho sfondati tutti Non ci credo Ma che è sta missione Oh No questa Quanto hai preso tu? Io ho preso B ragazzi Io ho preso C Vabbè ragazzi Io ho preso C Non è possibile Cioè Tu be vince con la B Ma è sempre meglio di me Che vinta con la C Che brutta vittoria però eh No orribile Ragazzi io mi aspettavo una Z Sono sicuro Cioè Raga eppure abbiamo Abbiamo combattuto bene Secondo me eh Ma Eh no Eh ma abbiamo fatto pure il finale Il finale supremo Quindi vuol dire che comunque hai rispettato tutti quanti i termini Allora Facciamo così Duo pericoloso Nessun riposo per i guerrieri C'è Broly raga Però l'obiettivo è quello di prendere le tre sfere del drago E consegnarle Sulla base di questo Sulla base di questo noi faremo questa sfida Vince colui che prende il punteggio più alto ma ignorando Broly Quindi dobbiamo raccogliere le sfere Ok? Va bene Però ti dico una cosa eh Eh potrebbe attivarsi la suprema E attenzione E soprattutto Soprattutto Ho attenzione personaggio casuale Sì No vabbè ragazzi Non ci credo Sì No vabbè Sì pure io ragazzi Sì pure io Davvero Sì Blazi Ma più o meno Ma i ragazzi Ma dobbiamo raccogliere le sfere Andiamo Andiamo Duo pericoloso Nessun riposo per i guerrieri Durante il caricamento ragazzi abbiamo optato per lo sconfiggere Broly Io ho Cell ragazzi super super cattivo super malvagio Oscuro Anche perché sai che può succedere? Ho paura che se raccogliamo solo le sfere del drago otteniamo un punteggio basso tutti Capito? Vabbè comunque Cioè esce un vincitore alla fine Sì 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 Questo sì Questo sì Allora Questa è una Eeeh Oh Se volete Se volete vi lascio Broly E io vado a prendere le sfere Sì sì certo ci hai provato Guarda che imbroglio No No non volete Guarda ma chi è che ha preso già quelle sfere? Ma Cioè ma Io Chi è che ha preso due sfere già? No 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 Giuseppe No no eh Guarda Ragazzi ci sono già due sfere Che sono state prese Le ha prese Giuseppe Io ne ho portata solo una Io ne ho portato solo una Bucciardo Ce n'hai una in mano Ce n'hai una in mano Guarda la tiene in mano proprio Ne ha portato Ne ha portato Cioè eccolo qua Guarda Ma questa è la seconda Che sto seguendo No 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 Io Io non ho parole Vai tu lascia Guarda non la lascia poi La lascia Che faccio la lascio a terra? No Posala nella Capsula qua Alla macchina Scameame Perfetto Mamma mia se ti sbraco Broly Ma cos'è che mi critichi Plazzi Guardate No no Sconfiggiamo Broly Boom finita così Ma veramente Ragazzi ma che c***o Ma che c***o è successo qua? Io ho preso una C 15897 Giuseppe? Ma che c***o Io ho preso B Con quanti punti? 20.649 Io ho preso B con 25.000 Grazie ragazzi Grazie Allora Ma cosa? Oddio Joseph te lo meriti Te lo meriti Se lo stramerita Cioè allora abbiamo detto Ma io pensavo la rifacessimo da capo Per abbattere anche Broly Te lo meriti Ma no In realtà ragazzi Io non so cosa sia successo Ma avete consegnato la sfera? Ha fatto tutto lui Si appena consegnata Ma io pensavo qua Se te ne facessero accogliere sette Invece noi dovevamo sconfiggere Prima Broly Vedi Allora lo dovevamo sconfiggere Eh vabbè Ma allora sei tu che hai voluto Hai voluto fare l'avvoltoio Ha fatto tutto lui Cioè io appena Ma che l'avvoltoio? Che ne sapevo io? Io Io appena ho detto Raga Vado a prendere le sfere Boom Vedo all'improvviso due sfere consegnate immediatamente Io volcio E teneva la terza in mano Le ha consegnate tutte e tre Joseph Io non ho parole Non è vero Non è vero Non ho consegnata una sola io Tu ne hai consegnate tre Ragazzi Ne hai consegnate tre Perché io ero contro Broly Tre Io stavo cercando Non ne trovavo una Blazzi Blazzi Non mentire Mi salvo la clip Mi salvo la clip E ve la mando La clip Io non ne ho consegnata una La clip Guarda Blazzi Ma basta eh Non ne ho consegnata una La clip Delle menzogne Cioè Scusate ragazzi La prima e la terza Allora ragazzi La prima è quella che ho portato subito La terza È quella che io ho preso per ultima E che mi avete visto in mano E sta seconda Allora chi l'ha consegnate Io ne ho viste due apparire immediatamente Ragazzi Guarda che si possono prendere due sfere insieme Uno dei due sta mentendo Beh aspetta Si possono prendere due sfere insieme Allora scusa una cosa Giuseppe non è che per sbaglio Mentre hai preso la prima sfera Vicino ce n'era anche un'altra E ne hai imbracciate due Le hai consegnate Convinto che fosse una No ragazzi Credo sia Quasi impossibile A meno che L'ho fatto senza accorre Ma non è possibile ragazzi Non ne ho idea Eh ragazzi Non so che dirvi a questo punto Cioè Io ne ho viste due apparire immediatamente Allo stesso tempo Blazi dice di no Io l'unico che ho visto portare le sfere Era soltanto Joseph Di cui una E lui tra l'altro diceva E lui E tra l'altro Riguardate il video Diceva tipo No non l'ho portata Non ce l'ho E invece tu beh gli diceva Ma guarda che io ti vedo Che ce l'hai in mano Ce ne hai una Oh capito Io davanti Che girava Capito Cioè Vabbè ragazzi No mi dispiace Deciderete voi sotto nei commenti Chi ha consegnato Tutte e tre le sfere Io purtroppo devo salutarvi Perché la batteria si sta per spegnere Onde evitare che poi ci perdiamo i saluti Io vi do l'appuntamento Con il prossimo video Ma prima raga Un saluto veloce anche voi Ciao ragazzi Ragazzi siamo divertiti dai Vi salutiamo Ci direte voi Chi ha consegnato le sfere Perché se io ho consegnato Anche una terza sfera Non l'ho fatta apposta E credo di non essere stato io Uno dei due mente Vabbè Vabbè Beh mi sembra qui Abbastanza logico Chi sia quello che sta mentendo È chiaro no? È Giuseppe Chiarissimo Cosa? Va bene Ragazzi Per oggi è veramente tutto Questo è stato un episodio Forse il più bello Che io abbia mai potuto registrare È stato meraviglioso Noi ci vediamo con il prossimo video Sempre e solo qui Su tuberanza Ciao Ciao